buongiorno cucciola cosa stai giocando? ad among us e tu sei l'impostore? si ma adesso non tu ah lo sei stata fammi vedere un po' guarda cosa metto questi capelli come sono lunghi sono lunghi più lunghi di te guarda cosa metto? cosa metti amora? ah proprio così? senza un perché? senza un senso? si che so fai? senti amore puoi mettere in pausa un secondo? certamente mamma ok ti stavo dicendo hai dei capelli lunghissimi oramai vero? sono molto belli vero? però sono un po' troppo lunghi poi si formano tanti nodini e li ti diamo un pochino ogni volta quando li dobbiamo pettinare quindi oggi? cosa facciamo? oggi andiamo a Stefania a tagliare i capelli appunto chi è Stefania? la nostra parrucchiera nonché la nostra vicina di casa mamma ti ho portato a fare un attimo le orecchie? si oggi amici dopo la fiscina andiamo a mangiare la pizza ok ah ok non avrai mica detto qualcosa di brutto su di me? no ok quindi stavamo dicendo che tra poco usciamo e andiamo a tagliare i capelli anche io li taglio lo sai rifaccio la frangia perché mi è cresciuta e mi dà molto fastidio guardate si gioca con la roblo che bello piccolo sei bravissima Ani io vado a lavorare un pochino e tra poco andiamo a cambiarci va bene? ok mi hanno parato ti hanno sparato amore dobbiamo andare dai andiamo a prepararci che la Steffi ci sta aspettando io ho finito di lavorare e tu sei ancora attaccata a questo cellulare te lo faccio sparire lo sai vero? no dai andiamo a prepararci veloce 3, 2, 1 via dove andiamo andando? come detto via eh sì certo e dai e dai oh ma chi è fatto il verso? guarda che bel casino che c'è ancora qui adesso facciamo il lettino prepariamo la cameretta bene bene e ci vestiamo poi ci andiamo a lavare i denti eh brava amore ti sei vestita ma come sei bella ma adesso posso fare un lupo un lupo? un lupo? wow andiamo a lavarci subito i denti dai sì questa cosa faccio anche mi piace più così ti piace mettere le calze sopra il pantalone come tua sorella uguale va bene dai potreste lanciare una moda voi due bellissima andiamo a lavarci subito eh che ballo scatenato dai 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 che tanto lo pattenio scusiamo il dentifricio che la fai? vai chiudiamo l'acqua che non bisogna sprecarla ma va bene? bravissima mamma mmm come sei profumata di menta dai che andiamo amo ciao bimbi noi andiamo a tagliare i cappelli io ho la frangetta perché è diventata lunga non so più come fare e Anastasia surprise premetti il burro cacao che hai le labbra secchissime e bruciate sì sono più figlia quindi vi faccio invidia la 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 come una panca una gna 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 Anastasia è tardi come una panca è tardi brava anche un pochino sopra dove tutto secco ecco ma ti brucia no no bene male sì ok possiamo andare stop quanto ne metti ci mancano tre bandiere cosa stai cercando le bandiere dell'Italia è la tua passione siamo arrivati aspetta ma sei tutta rosa qui ma no quanto burro cacao è messo sulle labbra siamo arrivati eh sei con la venta sì non sei felice sì non sei curiosa di vederti con un bel taglio moderno Federico cosa diceva secondo me Federico dice dirà dirà ma che da qui è una bambina nuova perché oggi la saggia non c'è eh e quindi la stessa voce con la frangetta la stessa voce la stessa frangetta ma con un taglio di capelli strabiliante vero? ma non dico io che sono io tanto glielo dici tu? sì le unghie tanto le sacchi sono io dalle unghie? sì ah ok e solo che io poi me le cambio te le tagli? no me le voglio fare un altro colore cambiamo colore? sì che ne arriviamo a casa ok va bene tra poco si entra secondo me tutti i miei amici non mi riconoscono eh anche la maestra eh sì anche la maestra eh dirà ma questa bimba non è iscritta anche le bidelle anche le bidelle diranno ma questa bimba non è iscritta a questa scuola non può entrare mannaggia pronta a lavare i capelli i capelli mettiamo poi qua eh che trattamento oggi signorina eh indietro indietro vai indietro con la testa amore altrimenti non riesci a lavarti ma dove ci sediamo adesso? su un bruco che bello no è molto vero ma sei su un bruco Ani è al telefono non sai quanto è rumore? è il claxon è la cosa che ho allora adesso scegliamo il taglio proviamo a guardare dei tagli eh se ce n'è qualcuno che ti piace guarda il primo pezzo è andato amore risposto un po' fai dritta ma chissà se ti riconoscono a scuola lunedì secondo te? no no vero? forse dalla voce e dal colore dello smalto ma cambieremo anche quello così confondiamo le idee ancora di più una bella scalatina e via facciamo i ricci dopo? siiii facciamo i ricci amore signorina ma tu stasera vuoi superare chiunque? vuoi essere la più bella del reame? eh? ma sei bellissima ma hai visto quei boccoli che ti ha fatto Stefania? sei stupenda wow no ma veramente tu forse dietro non li vedi adesso te li faccio vedere guarda che boccoli che hai sei contenta? eh? sei bellissima posso scendere adesso scegli eh un secondo allora scegli scegli l'orecchino per te tu quali vuoi? questi qua neri? si ascolta per te quelli più piccini eh piccini piccini adesso ti aiuto io e a Vanessa come li avevamo presi? bianchi? cosa vuoi? eh però devi prendere quelli piccolini piccolini vuoi il cuoricino? vabbè adesso ne prendiamo un po' ok? facciamolo quanto sei bella sembri una donnina ma ti rendi conto? si ti piacciono? si li voglio tenere fino a stasera fino a stasera certo e quando vanno in piscina ce l'ho ancora no non credo io vado a stare ce l'ho e li faccio te li faccio io poi va bene ti ha fatto un boccolo stupendo ma che bella che sei qui questo poi te li faccio vedere come invece la meta mi riconosce perché lei me le aveva detto che come si chiama sua sorella Vanessa e poi se la vedi mi riconosce e poi con questi capelli beh li hai tagliati poco un bel pezzo e poi però il giubbotto me le metto questo giubbotto qui me lo metto tutte le volte così ti riconosce dal giubbotto e poi anche dai le cappe vediamo allora ricordiamoci come sei vestita eh così lunedì ci vestiamo ancora così con questi stessi pantaloni va bene ti mettiamo pochissimo amore siamo tornati a casa adesso sta arrivando il papà ma ti vedrà così bello ma secondo me non ti riconosce secondo me non ti riconosce dici che ti riconosce sì sì allora adesso ti preparo la piadina che dobbiamo mangiare al volo perché dobbiamo andare a prendere a me la più bella è questa Daniel sì questo boccolo è veramente bello sei contenta? sì anche a te ti piace da morire sei bellissima sembri davvero un'altra bimba molto più grande come il suo figlio del film che facevo è vero è vero sembri il suo figlio ok preparo da mangiare che ho fame Marina il suo dog è pronto principessa Anastasia mangia pure che poi andiamo a prendere Vanessa no poi andiamo a prendere Daniel e poi Vanessa e stasera ci divertiamo stasera buon appetito buon appetito amore vuoi scegliere gli orecchini così poi andiamo a prendere Vanessa ma come faccio? mettili sulla manina vai rovescia non escono uno solo qual è questo qua? il tuo? sì quello un po' ricino? ok e l'altro adesso lo scegliamo e la mamma te li mette va bene? eccoli qua tutti e due sì eccoli qua perfetto messi amore vediamo un po' come sei bella con questi cuoricini neri che bella vediamo ti ho fatto male? no vero? adesso dobbiamo andare a prendere Vane eh? il nostro video finisce qua tu per la prima volta oggi sei andato nella parrucchiera e sei stata bravissima e sei bellissima sembri una principessa allora Anastasia adesso il video è finito dobbiamo andare a prendere Vanessa in piscina e procediamo con il video con le amiche di Vanessa stasera a cena vero? sì ok se il video vi è piaciuto ti abbiate la campanella si mette nel canale e lasciate un bel pollicione su ciao ciao